Ci troviamo all'interno delle scuole solieri a Taggia, siamo con il sindaco Mario Conio. Questo sarà da domenica il centro operativo di controllo per quanto riguarda le operazioni del cosiddetto Bomba Day. Sì, noi stiamo cominciando ad attrezzare tutti gli spazi necessari per questo fine settimana così complesso per la nostra comunità. In questa stanza ci sarà il centro avanzato delle operazioni, in parole più semplici tutte le forze dell'ordine, le forze dirigenziali e l'esercito avranno qua un punto di riferimento. Qua ci saranno i ponti radio che permetteranno di avere in sicurezza il controllo di tutto il territorio. Ci sarà la connessione della nostra videosorveglianza che ricordo che con oltre 70 telecamere copre il centro di arma, quindi sarà il cuore nevralgico delle operazioni. Di qua si potrà anche controllare e coordinare l'attività di assistenza ai nostri concittadini perché questa è una scuola dove verranno accolti una delle tante. C'è questa, poi c'è la scuola Ruffini piuttosto che la regina Margherita. Siamo già in piena attività. Protezione civile Regione Liguria ha cominciato questa mattina le operazioni di allestimento di tutte le attrezzature. Gli spazi esterni sono già dotati di bagni chimici necessari. Stiamo anche attrezzando delle aule dedicate alle persone più fragili. Pensiamo agli anziani che magari avranno necessità di avere poi una cura e un'attenzione in più. Questo è il nostro obiettivo, riuscire a dare assistenza a tutti, pur chiedendo comprensione ai nostri concittadini perché comunque stiamo affrontando davvero una situazione straordinaria. Un occhio di attenzione di grande riguardo per i più fragili. Perché gli anziani non nascondo chi ci preoccupa di spostarli da casa. Cercheremo in questi spazi di dargli davvero la migliore assistenza possibile. L'impegno è massimo e speriamo che anche il risultato sia all'altezza poi delle aspettative. Ricordiamo alcuni dei dati che accompagneranno l'evacuazione su Taggia. Quanti cittadini saranno interessati? Sì, è interessata la maggior parte della mia città. Si parla di circa 8.000 persone da evacuare. Di questi numeri è una importante fascia di cittadini anziani. C'è anche un numero consistente, ahimè, di cittadini positivi al Covid che troveranno assistenza in un'area prossima a questa. Quindi un'operazione assolutamente importante. Come dicevo poc'anzi, il nostro obiettivo è da giorni che noi lavoriamo davvero in maniera continuativa. E permettetemi un ringraziamento a tutta la struttura comunale che si è messa completamente a disposizione per questa attività nell'obiettivo di minimizzare i disagi che però, inutile nascondere, ci saranno. Perché comunque si tratta di un'operazione importante che andava però assolutamente fatta. Permettetemi un ringraziamento all'esercito italiano perché comunque noi avremo disagio ma ci saranno persone che, mentre noi siamo comunque in luoghi sicuri, affronteranno un'operazione impegnativa e complessa. Ieri ho avuto l'occasione di visitare il sito del disinnesco. L'esercito sta mettendo davvero in campo uomini e mezzi realmente importanti. Quindi a loro un ringraziamento e un grande in bocca al lupo. Oltre all'accoglienza e ospitare persone che avranno bisogno di essere allettate, c'è anche un ulteriore servizio, il servizio mensa, quindi garantirete dei pasti per tutta la giornata? Assolutamente sì. Noi abbiamo sei punti distinti sul territorio dove forniremo assistenza, chiaramente anche di tipo alimentare. Quindi è garantito il pranzo, piuttosto che snack, tutto ciò che è necessario per superare queste ore in tranquillità. È uno sforzo molto importante e molto consistente. Abbiamo attrezzato le nostre cucine e ringrazio il servizio mensa che si è reso disponibile. Cominceremo domenica con dei turni, il primo sarà verso le 11.30. Poi ogni mezz'ora verranno fatti dei turni distinti per cercare di fornire il servizio nel miglior tempo possibile con la miglior qualità ai cittadini. Anche questa è una sfida che cercheremo di vincere. Ecco, abbiamo visto come stanno procedendo le operazioni di allestimento del centro Suttagia. Ora siamo a Riva Ligure dove alle spalle del sindaco Giorgio Giuffra c'è Croce Rossa Italiana che sta allestendo le due tende che saranno destinate alle persone Covid positive, giusto? Esatto, l'area del campo sportivo è quella che abbiamo identificato per i positivi da Covid-19. Hanno fatto veramente un'opera importante i volontari della Croce Rossa Italiana che sono qui a ringraziare. Un lavoro imponente. La macchina organizzativa sta procedendo speditamente e con i tempi che ci eravamo dati. che è positivo al Covid, cosa che tra l'altro scopriremo solamente nella tarda serata di domani perché le liste sono in continua evoluzione. Avrà un ampio parcheggio riservato dove potrà venire con la sua auto se è automunito oppure i militi della Croce Rossa lo andranno a recuperare a casa e per poi essere portati in queste intense strutture, poter comunque avere degli spazi all'aperto dove quelli che sono paucisintomatici o addirittura sintomatici potranno comunque godersi una giornata di certo non di quelle che auspicavano ma sicuramente più normale possibile. Ricordiamo quali sono i numeri delle evacuazioni su Riva Ligure. 1.146 persone evacuate, circa 25 ad oggi le persone Covid positive, 62 persone della casa di riposo Agnazzuri, le grange, saranno trasferite all'Adalbertis di Santo Stefano, l'ex casa di riposo e per questo ringrazio il sindaco Marcello Pallini. Un'operazione complessa, soprattutto per un comune come il nostro, che è un comune piccolo ma che come sempre ha tirato fuori il meglio di sé in un momento di difficoltà. E poi altre strutture di accoglienza, giusto? Esatto, domani la protezione civile completerà l'installazione di un'attenso struttura presso i giardini Don Luigi e Icchino, saranno messe in rete insieme all'asilo infantile San Giuseppe e alle opere parrocchiali e anche quello sarà un polo di ospitalità, un polo di ospitalità per le famiglie e per le persone che hanno difficoltà motore, le più anziane e le più fragili del nostro territorio. Ringrazio il parroco che ci ha dato l'utilizzo di due stabili comunque che sono di sua competenza, ma ringrazio soprattutto i tanti volontari che a prescindere dalla partecipare o meno all'associazione, domenica si rimboccheranno la manica per fare da mangiare ai nostri concittadini che in quel giorno non potranno essere a casa. Davvero, loro sono il meglio che la nostra comunità sa esprimere e a tutti loro va il mio abbraccio virtuale in questo periodo sicuramente difficile.